un saluto a tutti e benvenuti in questo nuovo video oggi vi farò vedere come proteggo io la chiave della mia fiat punto con soli 3 euro e 50 allora su ebay e su wish potete comprare tranquillamente questa custodia in gomma che vedete proteggerà benissimo la nostra chiave adesso io più di un anno che la uso e come potete vedere non ha segni di utilizzo si è un po sporca mi è caduta varie volte ma la potete ed è molto carina vedete sistema fiat i vari tasti disegnati esiste blu rosa viola arancione e altri modi in altri colori vedete l'ergonomia della chiave cambia un pochino ma non più di tanto ed è comoda se cade ripeto a me è caduta più di una volta e non ha resistito vedete il silicone è comoda da tenere in mano anti scivolo è comoda anche in tasca lo potete trovare sia su wish che aliexpress ebay e amazon se questo è tutto iscrivetevi al mio canale lasciate like fatemi sapere voi cosa ne pensate se usate qualcosa per proteggere la vostra chiave un saluto ragazzi